zucchi e tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi siamo qui per fare il market watch del battle of legend perché ragazzi da quando è stato annunciato ci sono delle carte che sono spagate di prezzi in una maniera assurda e roba che ovviamente è crollata perché ovviamente è stata ristampata ovviamente però prima iniziare vi ricordo che questo video come tutti gli altri sono sponsorizzati da fantasia store quindi se volete recuperarlo vi ricordo che trovate il mio referral link e codice sconto sempre qua sotto stessa cosa ragazzi per questo il miglior negozio ragazzi per l'acquisto di prodotto coreano e giapponese hanno io e one piece quindi se volete ampliare la vostra collezione con roba abbastanza esotica hanno anche gradate roba vecchia della bandai di particolare hanno un botto di roba vi ricordo anche per loro referral link codice sconto sempre qua sotto inoltre se volete liberarvi carte di you di magic pokemon e one piece trovate il link del mio instagram sempre qua sotto contattatemi mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare detto questo andiamoci a vedere cos'è successo partiamo con l'andare a vedere quali sono effettivamente le carte più costose di questo nuovo set perché diciamo quella che ha messo un po un po di hype a tutte le persone è il phantom of yubel il nuovo supporto yubel che ovviamente ha fatto ai pari un po di carte del mazzo e che attualmente risulta essere la carta più costosa vediamo un po su che cifre ci troviamo ma io vedo qua che stiamo almeno sui 60 euro e la carta sta a 70 in italiano essendoci dei venduti comunque dubito scenda scenda ancora vediamo anche in inglese nel caso casomai tipo no ragazzi anche dall'estero la carta si attesta sui 65 euro quindi non credo scenda scenda più di così mi dispiace perché se ci sono state persone che sono state disposte a pagarle questa cifra le carte difficile che scenda considerate che è partita 55 è arrivata a 60 quindi la cifra che avremo tra penso oramai sei giorni sarà questa settimana prossima ci sarà la conferma ma dubito cambia andiamo avanti tra le altre carte abbastanza costose ma secondo me queste crolleranno tutti di prezzo perché comunque conosciamo un po i vecchi battle of legend e tante carte che stavano all'interno crollano in maniera indiscutibile sono vabbè i nuovi supporti genex abbiamo infernoid la spiritual beast lara a la nuova carta sky striker azalea che questa secondo me è una di quelle che reggirà un po di più ho dei dubbi sulla roba genex infernoid e spiritual beast il resto secondo me interessante penso che rimanga un po alta stessa cosa di azelae secondo me l'avremo su scambiarana perché ragazzi carta incredibile per il retro format e poi è secret non è neanche rara quindi staremo alti stessa cosa curicara più o meno staremo sempre su quella cifra e per il resto tipo anche la ristampa di greg guignol ai girin secondo me qua un po di roba il gesso mino buono lo so anche il gesso mino anche è una carta che parte di base da 40 no da 30 euro almeno pre ristampa quindi credo che un minimo di value la mantenga comunque devo fare complimenti al tizio di car market che ha scritto le cose cioè letteralmente il nome della carta è bltl di vincnate ok va bene a parte questo che non c'entra niente comunque tante carte da questo set sono calate le andremo a vedere adesso un attimo e abbiamo ovviamente il somino che ok vediamo che il grafico comunque risalita quindi credo che anche questa rimarrà sui suoi 4 euro l'unica cosa è che se noi la paragoniamo quella che male ragazzi al nazionale non mi ricordo quale negozio ho visto che la ritirava a 25 euro a peso è mamma mia che disastro che di saperlo di lanciavo le mie poi poi cos'altro abbiamo a void imagination vediamo anche questa questa non ha venduti ovviamente è una carta super da core che stava all'incirca sui 7 8 euro quindi non credo anche l'alternative art quindi è più bella cioè penso che venderanno più questa eh lo so però non ha venduti ancora quindi credo che questa scenderà sì sì la gente non è disposta a spendere lo stesso prezzo per la ristampa che trovi due volte nello stesso pack poi abbiamo scambiarana scambiarana invece c'ha una value un po' interessante e ha dei venduti quindi ragazzi voi considerate le carte che hanno dei venduti normalmente si stanziano quelle che non hanno ancora di venduti probabilmente caleranno allora uh kurikara invece in salita non pensavo sta salendo quello che non mi porta è che konami ha annunciato che queste carte saranno all'interno dei team perché pote sarà uno dei settori stampati nei team quindi mi fa strano averla anche qua vediamo che trick vorrà fare se vuole distruggere totalmente la value di kurikara o se rimarrà solo qua è da capire un attimo poi vediamo quali altre carte interessanti abbiamo abbiamo la strappa possesso che questo è molto carino questo l'ho sbustato pure io questo ha un drop quindi probabilmente scenderà un pochino non credo sarà tipo come stra come terraforming nel vecchio battle of legend ma secondo me sarà una carta almeno da 4 euro non credo andrà andrà sotto sicuramente scenderà dai 5 comunque manca ancora una settimana passiamo adesso ad egirin e anche questa carta a 4 euro anche questo in drop io aspetterei ragazzi un attimo se volete andare di singole sul comprarle adesso o meno dipende poi dalla carta perché ci sono alcune cose che stanno calando quindi se volete montare esempio barriero di ghiaccio ritual beast infernoid e non volete sbustare ovviamente o genex aspettate un attimo prima di comprare la roba poi poi abbiamo anche vabbè la roba branded ma perché granguignolo sta salendo ma ok cose a caso è una carta forte c'ha due prix sì però granguignolo dovrebbe essere ristampata nitin cioè è come kurikara dovrebbe ma non si sa sprite zampillo è porca miseria 5 euro ed è e non scende più mi sa che sto battle of legend avrà più value rispetto agli altri forse perché gli altri erano veramente brutti e quindi è per quello che è crollato tutto qua secondo me potrebbe a questo punto vedendo un po come sta andando adesso potrebbe fare un result migliore rispetto a quelli che sono tipo brawl o bllr nel senso comunque gli ultimi battle of legend che sono usciti negli ultimi tre anni tipo detto questo adesso io passerei a vedere quali sono le carte che ovviamente a causa di questo set hanno cambiato drasticamente il loro valore partiamo da trono dell'incubo ragazzi cazzo che male allora io ringrazio per questo spike perché come avete visto ultimamente ho aperto 10 box di lede me ne sono usciti 5 se questa carta non fosse salita mi sarei fatto un buco nel mio portafoglio più grosso di quello che c'è attualmente ringrazio tutti quelli che l'hanno acquistata a 20 a 30 a 35 perché adesso posso vendere il mio preset a 45 e godo un po erenz tu quanto l'hai venduta io ho venduto la coppia 70 euro le ho spedite perché sono una brava persona e fin top poi altre carte che sono specate sempre per quanto riguarda il reparto hubel abbiamo lo spirito di hubel che probabilmente era già salito ultimamente però me l'ero perso è lo spirito e attualmente si aggira su i 2 euro playset 4 che non è male probabilmente era già salito pretrono cioè con l'annuncio e l'uscita del trono però cazzo cazzo veramente tanto per una super rara mi sembra di essere tornato all'epoca di bode dove la roba branded era salita tipo opening super stava a 20 euro oppure cos'altro c'era di totalmente insensato branded red anche vabbè lasciamo stare vendute a 20 centesimi e lì morivo poi altra carta sempre di hubel che è spikata è ovviamente il loto di samsara che ok parte a 10 centesimi le monocopie ma ragazzi i playset stanno all'incirca sui 2 euro e 50 e i venduti più alti arrivano fino a 2 euro e 20 quindi sta roba è relativamente salita se non ricordo male al nazionale le ritiravano a un euro tipo e per la carta da 10 centesimi quindi sai i negozi il plus che se sono fatti col tipo tre giorni perché tanto quando sbuste cioè quando c'è sta roba non te ne frega niente e la lanci passando adesso un altro mazzo che ha avuto un aumento consistente del prezzo è barriera di ghiaccio barriera di ghiaccio a tre carte nel pratico molto costose che ovviamente non sono state riprendete e sono le tre carte che si trovavano all'interno dello strutturo strutture che fino a settimana scorsa si vendeva 4 euro su car market ora il rivelatore che era già salito un po è salito ancora e è tipo sparito dal market attualmente si aggira sui 4 euro l'uno carta da structure deck ricordo e vabbè stessa cosa ragazzi abbiamo l'oratore per la barriera di ghiaccio che è un po salito diciamo si vendicchia sugli 80 centesimi e poi abbiamo la nuova trisciola che ovviamente play set si vende sui 3 euro e adesso sorge la domanda ma cappello se tanto lo structure deck si vendeva 4 euro mi conviene comprare lo structure sì il problema è che attualmente lo structure deck è un po salito di value e dal vendersi ton a 7 euro adesso te lo propinano a 30 ma chi è che lo compra a 30 se tanto le carte da prendere so 4 è anche un coglione è quello un po il problema poi vabbè ognuno lo vende i prezzi che vuole ma mi sembra un po eccessivo io spero di trovarlo da gamestop e comprarlo a un prezzo umano me dovevo svegliare prima sì ma non avevo voglia sono cose che capitano allora altra carta che mi sono dimenticato di guardare prima è il altra carta a vedere prima che non abbiamo visto è ovviamente il creomante il creomante non sta tanto allora il play set sta a 90 centesimi ed è l'unico play set che c'è secret ovviamente questa come tante altre barriere di carte barriere di ghiaccio non sono spicate troppo perché nel pratico avranno avuto delle reprinte nel corso degli anni in primis nello structure deck quindi non aveva senso spararle a 4 euro però sicuramente ragazzi se volete la roba rarizzata per il mazzo qualcosina dovrete tirare fuori sincero fossi in voglio per rarizzare il mazzo aspetterei perché comunque adesso siamo in uno dei momenti di maggiore hype del mazzo date dategli tempo appena ricompariono i play set comprate tutto a un prezzo un pochino più umano mettiamola così allora passando avanti altro mazzo molto interessante che sia un po epato è ritual beast ritual beast ragazzi che matte che molto contento di aver montato è salito io in primis ho regalato a matte con ritual beast che teoricamente mi sembra sia uno dei pochi ad essere stato ristampato e godo perché effettivamente non è tanto salito di prezzo il problema di fondo è che io avendo aperto il set giapponese all'interno aveva molti più ristampe rispetto al nostro e quindi non mi sono preoccupato di dire vabbè sti cazzi sta roba non sale oppure sta roba me la posso recuperare anche a un prezzo più umano no attualmente vediamo ulti best spirito se avatar cannawalk attualmente a play set 4 euro venduti più alti 4 e 75 la vita ingiusta uno sul gruppo telegram ha detto godo perché l'ho preso a 20 centesimi un po rosico ammetto che c'è questa questa cosa non è un bel po di quegli affari quindi è sì anche io devo andare a ricercare il bank perché potevo comprarli ma effettivamente se guardo dentro gli scatoloni probabilmente ce li ho perché sai quella roba che diceva beh la prendo chi se ne frega come è successo con ondata di calore prossima carta abbiamo i destrieri che boh è leggermente salito proprio il play set ma vabbè cose minimali poi abbiamo a pelio anche questo leggermente salito ma si parla di una carta a 50 centesimi che i tuoi cartora in infinite copie poi abbiamo ulti cannawalk che a questo punto credo non sia stata reprintata o se è stata reprintata con altro che alternativo non ricordo bene che quella che ho regalato e sta 3 euro matte che ti ricordo che mi devi 3 euro su paypal io glielo ricordo poi se vedrò questi 3 euro sarò contento almeno sia buono al canale me lo fa quello ok poi abbiamo ulti a pelio che anche questo leggermente salito ma proprio pochissimo poi passando avanti abbiamo when altro bestia spirito sempre poca roba sono carte da un euro cad per i play set e vabbè adesso passiamo alle cose più interessanti ovvero ulti gai a pili ulti gai a pelio che costa un po vabbè se 50 alla fine ci sta il il problema è la tendenza dei prezzi che un po mi spaventa è un po alta si che è alta e bassa alta e bassa alta e bassa ha degli up and down inconsistente ma vogliamo vedere quello vero questa stava a 6 euro da cross io l'ho sbustata venduta a bo a 10 neanche adesso sta a 25 e vale ragazzi è perché nella vita non ti aspetti la reprint di questa roba cioè non ti aspetti i supporti e dopo ti aspetti la reprint ma konami fa le cose a metà a volte ma gli vogliamo bene per questo è ok sono cose che capitano poi passiamo a un'altra carta vabbè questa sta ancora a un prezzo mano sempre vabbè 2 euro il set e poi abbiamo vabbè pet elfino stessa cosa roba da poco il grafico è sempre in salita ma non siamo ancora arrivati alla ciccia perché dopo vedremo una carta per ritual beast un po alta che mi fa male allo stomaco vederla anche questa 35 centesimi cad e concludiamo la nostra carrellata di ritual beast con elder ovviamente c'è la giocata elder cannon walk e sai quanto sta su elder cannon walk 12 euro elder si vabbè che fa tutta la combo e c'è cannon walk cosa è un problema è un problema perché era una carta che non stava a niente stava un euro e adesso sta a 10 fortuna che non l'ho mai caricato e quindi sarò pieno di questa roba erens bisogna ritirare fuori il bulk assolutamente perché qua io quei cose ne ho venduti tempo fa tipo a 3 euro l'uno e pensavo di averci fatto un plus stava a 10 euro si si 12 il set 12 il set quindi sono contento perché la community di ritual beast ancora esiste ma vabbè andiamo avanti mentre io conto i soldi che farò vendendo questi cosi andiamo quindi sono veramente nelle robe che ti ho mandato da qualche parte però dai devo cercarli devo cercarli mi serve il tempo conami per favore non me li ristampare adesso allora passiamo adesso la roba infernoid che nel pratico ha avuto quasi tutta reprint diciamo però le max rarity continuano a avere una valium un pochino più alta grazie ovviamente ai supporti abbiamo deviati che è leggermente salito e si vende tipo a 20 centesimi e la gente non frega da niente perché per 20 centesimi ci si lavano il buco del culo però nel senso prima stava a zero poi abbiamo ovviamente umuncu che tipo stanno sparendo in versione secret poi abbiamo anche la versione ultima i tre ragazzi quindi è tutto 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 grasso che cola guardate qua la mia è un po' alta dovrei abbassarla di prezzo vabbè comunque nel senso in italiano non è che ce ne siano così tanti eh diciamo sta una trentina più o meno eh sono contento per questi che l'hanno preso a 10 euro botta di culo incredibile vabbè poi vabbè abbiamo armadic che anche questo sta un po' sta 7 euro però anche questo dovrebbe avere ristampa poi pirmice che ok anche questo sta i set a 6 euro porca troia però vabbè questa è stata sempre abbastanza alta fin da marzo quella che effettivamente è salita è antra che è una super rara che tipo fa da dico perché non c'ha non è stata ristampata controlliamo per sicurezza ma no non è stata ristampata no non è stata ristampata non nel set giapponese c'è termina world infami hanno tolto degli slot per fare delle ristampe sì tipo hanno messo sprite incredibile sono cose che capitano ogni tanto bello che bello ce li ho degli antra concludiamo con l'ultimo reparto che ovviamente è un po' salito perché ovviamente alcune carte non sono state ristampate ed è o branded ragazzi branded è sempre lì branded opening non è stata ristampata e sta a 7,57 albion non è stato ristampato ed è un po' salito poi abbiamo un'altra branded opening sempre lassù perché ha un prezzo che non ha senso perché il playset sta a 18 euro e poi quei che continua a costare una sbrega in mezzo ai soldi io non vedo l'ora che annunci noi teen solo per vedere quem scendere perché non ha senso dopo che è arrivato joshua smith questa carta non ha mai più avuto un prezzo umano e non è giusto non è palesemente giusto mi sento preso in giro grazie tuoi ti sparo in bocca va bene e va bene ragazzi il video finisce qua spero come sempre vi sia piaciuto e fatemi sapere qua sotto con un commento ovviamente cosa ne pensate del prezzo delle carte perché effettivamente c'è un po' di roba che sa dire un po' tanta diciamo che battle of legend ha un po' incrinato la situazione di mercato di tante carte mettiamola così ovviamente ragazzi vi rinnovo l'invito a passare qua sotto tramite il mio referral link a fantasia store per acquistare questo set e noi ragazzi ci rivediamo domani sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti